Ciao a tutti sono Elle e benvenuti al mio canale. Oggi vi parlo del nuovo film di Netflix a tema royal ovvero Scoop, la storia di come il principe Andrea Duca di York venne portato davanti alle telecamere della BBC al programma Newsnight per discutere se fosse colpevole o meno di quello che la al tempo minorenne Virginia Roberts poi diventata Gioffrello accusò ovvero di aver avuto rapporti con lei consensuali o meno non aveva alcuna importanza lei era minorenne a casa del riconosciuto molestatore Jeffrey Epstein milionario che gestiva a quanto pare un giro di prostituzione di giovani ragazze e Andrea era suo amico. Il film per buona parte della sua ore 40 non è tanto lungo mi è sembrato raccontato un po' col freno a mano cioè cercavano in certi momenti di farci apparire Andrea come forse non colpevole poi però mi sono messa a riflettere su questa cosa pensavo è il solito rispetto che i britannici portano alla corona perché mettersi in maniera troppo chiara contro la corona significa comunque chiudersi delle porte poi specie magari da parte di altre persone britanniche che sentono che se gli tocchi la corona stai toccando anche loro ma poi ho pensato anche probabilmente si tratta anche di una questione legale perché il duca di York il principe Andrea non è mai stato accusato in un tribunale ha patteggiato diciamo così ha pagato dei soldi sembra 12 milioni di sterline a Virginia Geoffrey per non andare avanti con la sua causa sembrano indice di colpevolezza e però di fatto non c'è una sentenza in questo senso se qualcuno andasse a dire anche solo in un film lui lo ha fatto e non mettendo laggiù come un'opinione di alcune persone lui potrebbe coerelare secondo le leggi inglesi poi dipenderebbe anche da dove è stato fatto il film eccetera adesso non ho visto dove è stato fatto questo film il cast è uno splendido cast britannico Rufus e Suele interpreta il principe Andrea abbiamo poi Gillian Anderson che è la giornalista Maitlis la conduttrice del programma la produttrice Sammy McAllister che si è assicurata all'intervista in questione e che è in fondo la vera eroina della storia e poi questa donna adesso non mi ricordo il nome è altra bravissima attrice l'avevo già vista come protagonista nella serie bodyguard datele un'occhiata che interpreta l'assistente del principe e questo film secondo me anche se l'argomento vi risulta magari sgradito o magari non credete ok alla colpevolezza di Andrea se esiste ancora qualcuno che non ci crede dimostra però molto bene qual è uno dei problemi della famiglia reale che ancora oggi la rendono un'istituzione davvero non al passo coi tempi perché questa intervista è stata resa possibile dalla cecità dello staff che si occupava dell'immagine del principe Andrea e mi viene in mente tutta la debacle relativa a Kate ma anche tornando un attimo indietro a quello che è successo con Harry e Meghan che non sono stati gestiti adeguatamente dalla casa reale persino quando rilasciarono la loro intervista opera e il loro documentario la casa reale lo staffa quella che si doveva occupare dell'immagine della corona non erano pronti non pensavano che sarebbero arrivati a tanto con Kate la stessa cosa hanno fatto silenzio ora se conoscete la mia posizione in merito voi saprete che io a Kate in particolare non do alcuna colpa ma lo staff di Kensington Palace che è l'ufficio che gestisce l'immagine di Kate William sì che ha fatto dei casini e non ha capito come i social oramai influenzano la percezione di un personaggio pubblico molto più dei media tradizionali e non li hanno saputi gestire non hanno capito il vuoto di informazioni che veniva colmato dalle teorie cospirazioniste e voi direte cosa c'entra tutto questo con Andrea c'entra anche lì perché il succo di questo film è che come è stato possibile che abbiano accettato di metterlo davanti alle telecamere della BBC facendogli fare la figura che ha fatto ora non posso sapere se davvero loro come risulta da questo film intendo lo staff della principe Andrea fossero alla fine soddisfatti di quello che avevano registrato nell'intervista convinti che avessero mostrato che lui non era colpevole però questo simboleggia un distacco dalla realtà perché poi chi ha visto l'intervista invece lo ha visto arrampicarsi sugli specchi ha visto una persona entitled qual è anche Harry per esempio convinto di non dover spiegare niente di che di poter dire bugie di non dover dare spiegazioni lui per esempio che diceva che aveva una condizione di sudorazione assente nel periodo in cui stava con frequentava Jeffrey Epstein era proprio oppure lui che diceva si era ancora mio amico perché sono un amico leale era stato già condannato per molestie su minori e vabbè e non si è saputo tirare fuori da questo pantano durante l'intervista questo è quello che se ne vince ma tornando un attimo al film a posto che appunto questo film ripercorre eventi realmente accaduti quella intervista poi si è guadagnata tantissimi premi giustamente verrà che ha avuto un risultato concreto ovvero il principe Andrea è stato costretto a rinunciare al suo ruolo di working royal perché insomma ormai era una disgrazia per la casa reale e la mamma Elisabetta che gli perdonava tutto è stata costretta a lasciarlo andare secondo me è morta la regina continuando a credere che il figlio non fosse colpevole di queste cose ma solo loro in famiglia possono crederci oppure solo lo staff che gli voleva bene adesso questo argomento lo riaffronto dopo tornando al film di fatto è più la storia non tanto del personaggio Emily di Emily Maitlis la giornalista quanto di Sam McAllister che temeva un licenziamento che era sempre a caccia di uno scoop e si ritrovava in una redazione che nella trovava un po' volgarotta nei modi nonostante poi lei riuscisse a farsi ascoltare dalle persone che serviva a mettere in video tipo li citavano Lupita Nyong'o l'attrice e poi appunto è riuscita a farsi ascoltare dallo staff di palazzo aveva questi contatti un paparazzo americano che l'ha avvertita in tempo del fatto che Jeffrey Epstein stava per essere arrestato dalla FBI e poi poi c'è stato il suicidio di Jeffrey Epstein che ha costretto appunto Andrea a parlare è la storia di come questa donna quindi trova la sua rivalsa e si sente finalmente apprezzata anche se a quanto sto leggendo oggi 6 aprile sul Daily Mail in realtà tra Sam McAllister e Emily Maitlis la conduttrice a differenza di quanto viene detto nel film non corre più buon sangue perché Sam McAllister pensa che Emily Maitlis non le abbia riconosciuto il suo giusto ruolo nell'intera faccenda mentre un altro personaggio che qui non si vede interpretato dall'attrice Romola Garai che era la direttrice insomma di quel gruppo di lavoro invece nel film le dà a Sam McAllister il giusto riconoscimento per essere stata lei insomma a portare Andrea davanti a loro comunque sicuramente Gillian Anderson fa un ottimo lavoro è una grandissima attrice rende l'estremo nervosismo ci fa entrare nei suoi panni con lei che starà davanti ad Andrea e sì si deve studiare tutto quello che gli deve dire le date eccetera per coglierlo in fallo ma anche attenzione non deve esagerare nell'accusarlo perché altrimenti poi come lo avverte il personaggio di Sam McAllister lui prende se ne va e certo è una vittoria lo stesso per loro se si comporta in quel modo però l'idea è che parli parli e si si tradisca ad un certo punto sentiamo il suo nervosismo nella preparazione dell'intervista ero lì che trebavo insieme a lei anche perché lei diceva attenzione anzi non lo diceva lei lo diceva il personaggio di Romola interpretato da Romola Garai ovvero se riusciamo a far sì che l'altro si tradisca in video sarà lui la notizia quando manderemo in onda questa intervista ma se noi siamo troppo compiacenti sbagliamo qualcosa la notizia saremo noi cioè quanto abbiamo fatto male questa intervista e lei giustamente fa notare voi noi io io perché daranno la colpa a me perché sono io che vado in video e giustamente è così infatti lei è nervosissima tra l'altro immagino che l'outfit che le hanno messo addosso fosse quello scelto dalla giornalista per l'occasione le stava veramente male cos'era quei pantaloni che si fermavano a metà caviglia vabbè e mi è piaciuto anche se ammetto che nel momento cruciale non ho colto esattamente perché loro si sentivano così vittoriosi forse perché l'intervista durava un'ora io non l'ho vista l'intervista originale intendo e hanno sicuramente estrapolato i pezzi più significativi non capivo davvero dove si erano sentiti vittoriosi cioè stavo comprendendo che lo staff di palazzo ovvero di andrea era fuori dal mondo non capiva che si stava scavando una fossa andrea poi era veramente un fantoccio pieno di sé che non capiva in che cosa si stava andando a infilare il modo in cui poi hanno trattato il girato con come se fosse un tesoro portandoselo uno attaccato in moto dentro la giacca questo sì mi ha mi ha dato più l'idea appunto di quanto sentissero di avere in mano un mega scoop c'era poi anche la possibilità che li fermassero dal pubblicare l'intervista un segretario della regina era andato lì nella sala mentre stavano registrando aveva messo il suo telefono come per dire ascoltiamo anche noi perché non è che si potevano chiedere alla bbc il girato e poi se ci sta bene quello che ha detto va bene andate in onda in teoria la corona poteva fermare l'intervista dall'essere pubblicata il direttore della bbc ad un certo punto non so se era la bbc o della redazione diceva è la regina se vuole cosa devo obbedire e questo ti dà l'idea un po di come siano abbastanza asserviti non abbastanza da non fare l'intervista perché adesso proprio perché il mio canale tratta anche di argomenti royal parliamo della cecità di questa gente e non non pa non è una cosa che è presente solo in questo film ma si sente tantissimo in tutti i resoconti per quanto riguarda che riguardano gli staff di palazzo ovvero loro si sentono quasi graziati dal lavorare per queste personalità importanti poi sono britannici in genere provano anche magari un rispetto sua maestà vostra altezza bla 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 sono a volte scelti anche secondo criteri non proprio meritocratici ma perché sono nobili o parenti di nobili comunque e sono in quel circolo di amici capiscono come vanno la cosa e invece di dire la verità insomma questa gente quando hanno a che fare coi media preferiscono dico adesso a william per esempio gli avranno detto ma sì non c'è bisogno che divulghiamo alcun dato sulla principessa avete ragione voi meritate la vostra privacy che è molto bello un amico dovrebbe dire questo ma non una persona che invece dovrebbe dire la verità e dire invece voi avete dei doveri verso la nazione o se non li se non date delle informazioni ci sarà un enorme backlash ovvero un attacco mediatico da parte di chi vi vuole male e vuole rovinarvi la reputazione e purtroppo quindi io vi devo dire che voi dovete fare questa cosa non l'hanno detto a william così come in questo caso qui qui si vede molto bene lo mostrano apposta nella narrazione che loro avevano assunto una persona esterna per gestire la crisi di andrea posto che non era stato possibile perché l'altra persona non aveva avuto davvero la possibilità di fare tutto quello che voleva perché bisognava accontentare il principe il figlio preferito della regina e infatti quando hanno deciso di andare in video con la bbc il tizio si è licenziato perché non era la mossa giusta e aveva ragione lui ovviamente mentre invece lei lei che lavorava da tantissimo tempo per il principe che cosa credeva di cosa era convinta convinta che quando le persone lo ascoltano parlare capiscono che lui in realtà è una brava persona lei non ci credeva il fatto che lui avesse fatto questo e qui non si tratta tanto di se lui lo abbia fatto o meno ma appunto dell'entitlement di questo senso di io non devo dare spiegazioni voi mi dovete credere perché perché io sono un principe e come vi permettete di pensare male di me c'è proprio questa sensazione di scollamento dalla sensazione che ha il pubblico di una persona e lei pensava quando conosceranno mi viene da dirlo in questo modo non nel film non la mettevano giù così quando conosceranno il mio principe il mio datore di lavoro lui che fa le battute che si impegna per esempio per i giovani pitch to work era questa iniziativa che il tempo portava avanti andrea cioè per i giovani imprenditori guarda come ci scherza si fa i selfie con loro è simpatico in realtà e se le persone lo sentiranno parlare e lui negherà insomma di aver mai conosciuto quella ragazza e di aver mai fatto simili cose nella casa di jeffrey epstein importante che lo dica gli crederanno e la cosa più assurda va bene voi direte se non avete ancora visto il film va bene ci ha creduto poi quegli altri lo hanno fregato durante l'intervista no è questa la follia che lei era lì lei e altri dello staff erano lì mentre c'era l'intervista e invece di fermare andrea solo una mezza volta ci ha provato a fine intervista loro erano convinti che fosse andata bene e questa atmosfera è stata resa molto bene all'interno del film con quelli della bbc che erano lì che li guardavano quasi come per dire ma vi abbiamo messo nel sacco e adesso ci fermate e gli altri è andata bene vero e loro quelli della bbc sì sì vi abbiamo fregato e non me ne rendete neanche conto anzi addirittura il principe andrea poi ha offerto un tour del palazzo alla di buckingham palace alla giornalista come se fosse fatto bene e lei si vedeva che era lì forse devo scappare insomma a gioire e questo qui convinto di aver dimostrato il suo punto che lui non era colpevole dicendo follie tipo appunto non riuscendo a spiegare perché era ancora amico di uno che era stato condannato già per aver molestato una ragazzina mentendo spudoratamente sul fatto di non aver mai incontrato virginia giuffre anche se c'era la foto di lui che le stringeva il la vita per chi non sapesse nulla per quelle poche persone che non sapessero nulla di questo caso come si vede benissimo all'inizio del film c'erano un sacco di ragazzine ventenni o sotto i vent'anni che frequentavano la casa di jeffrey epstein ma perché ragazzine che riuscivano con uno sguardo tormentato alcune non minorenni e quindi uno poteva pensare vabbè però traffico comunque di donne è rimane un reato e nella c'è poi un pezzo abbastanza rapido che però è molto significativo quando poi la polizia i federali hanno fatto irruzione nella casa di jeffrey epstein hanno raccolto delle prove prove tipo una bambola non mi ricordo adesso si era impiccata o cosa cose che erano in bella vista nella casa che non potevano essere ignorati da chi andava anche solo come ospite e quindi lui stava cercando di dire io sono un amico un amico leale quella volta che mi sono stato fotografato insieme a lui nel 2010 era solo perché mi sentivo di dirgli di persona che non che non dovevamo più vederci e la giornalista quindi lo coglie in fallo dicendo ma scusi quando jeffrey epstein è uscito di prigione la prima volta non ha fatto un mega party in suo onore quindi tu sapevi già che era colpevole però stiamo parlando di un'altra volta che tu c'eri andato quindi non dire che non lo sapevi e lui si è scavato la fossa da solo ma la cosa più assurda è appunto che era convinto che andasse tutto bene e c'è questa scena nel film significativa allegorica con lui che dopo l'intervista non la guarda neanche più poi sente il suo telefono che inizia a scoppiare di messaggi comincia a vedere le reazioni e lui era uscito nudo dalla vasca da bagno è in effetti con questo corpo flaccido enorme non so se si è ingrassato per l'occasione anche perché lui era un bell'uomo oppure si sia messo una qualche protesi colto nudo nella propria colpevolezza di fatto o se non colpevolezza nella propria stupidità da bambinone cresciuto e ci fanno vedere anche queste scene di lui che sul suo letto ha i pupazzi che vabbè senza giudicare questo in sé è solo nel contesto del personaggio una persona incapace di capire che aveva fatto qualcosa di negativo incapace di spiegarsi davvero pronto a mentire pur di tirarsi fuori dai guai alla fine non ha funzionato e quindi questa è come vi dicevo la storia di uno scoop giornalistico e si parlava di questo problema del palazzo cioè di questi aiutanti che non avevano le capacità per gestire i media che erano lì per accontentare i desideri dei dei loro datori di lavoro dei principi così grati di aver lavorato per loro che alla fine finiscono per creare questi casini e se c'è un vero problema che adesso con la morte di elisabetta secondo me è da affrontare è proprio questo assumere persone più valide e per fare questo non è che basta fare una ricerca tramite linkedin o chissà cosa il problema è cambiare la propria mentalità innanzitutto come datori di lavoro perché se assumi una persona valida la persona valida non può fare miracoli se tu non l'ascolti se ti dice che cosa fare con i media e tu pensi di non dover rendere conto che no non l'ascolti che ti sta mancando di rispetto se osa dirti la verità allora non funzionerà mai e si andrà a precipizio al prossimo problema persino quando come nel caso di kate non lo si meriterebbe perché lei era solo malata non era un'andrea che aveva commesso un crimine non era una harry che è andato a sparlare di tutti eppure si è beccata di tutto proprio come se avesse commesso chissà quale colpa certo alcuni la davano per scomparsa perché erano preoccupati per lei ma nel mentre mentre erano preoccupati per lei dicevano che il marito le usava violenza che il marito l'aveva nascosta e danneggiavano la sua vita quindi questo film fa riflettere sull'incapacità dello staff royal e sullo scollamento dei reali dalla realtà perché sin da questo momento qui ma anche con megan la famiglia reale ha subito anzi tornando più indietro nel tempo sin dai tempi di lady diana hanno subito i media e finora hanno potuto evitare di relazionarsi tanto di affrontare questa realtà per via della presenza della regina elisabetta che comandava un certo rispetto andata via elisabetta non sia celebrities proprio alla pari di tutti gli altri bisogna rendere conto di ogni minima cosa per quanto si lavori con l'immagine ma comunque devono cambiare mentalità e chissà se succederà chissà se guardando un film come questo possono capirlo sempre che lo guardino alla famiglia reale a palazzo diranno che non lo guardano mai hanno detto persino che non hanno guardato il documentario di harry ho letto il suo libro perché devono dirlo così altrimenti poi tutti direbbero allora un gesto che tu stai facendo è di risposta a quella cosa lì e sarebbe il salotto di maria dei filippi allargato e continuo però però io sono convinta per esempio dicevano lì c'era persino la principessa beatrice la figlia di andrea che era presente al primo incontro con la giornalista e lei diceva io guardo i media e in effetti le figlie di andrea un po stanno pagando i peccati del padre si mormorava che eugenie non lo volesse al suo compleanno però diciamo che hanno ancora buoni rapporti con loro ed è quello che ha fatto il padre è uno stigma che sta seguendo che li sta seguendo ancora e niente mi stanno chiamando per andare a pranzo vi ringrazio tantissimo di avermi seguito in questa recensione voi avete visto il film che cosa ne pensate io vi dico che vale la pena di dargli un'occhiata posso avervi detto molte cose che in realtà erano già note dall'epoca perché appunto storia vera in tutto e per tutto però dategli un'occhiata perché le sensazioni che mi ha convogliato secondo me sono da studiare personalmente per ogni non proprio fan della famiglia reale osservatore della famiglia reale se vi interessa come argomento vi ringrazio tantissimo per avermi seguito oggi mi raccomando se volete altre mie opinioni sul mondo royal iscrivetevi al canale mettete mi piace al video e ci vediamo una prossima volta alla prossima